Una buona serata al pubblico, ben ritrovati a microfono aperto. L'estate è terminata, anche se qualcuno ancora non se ne è accorto perché in effetti alla spiaggia ci si riesce ancora a andare a fare qualche bagno. E quindi c'è comunque il passaggio di stagione anche dal punto di vista operativo se facciamo riferimento a chi sulle spiagge lavora per garantire la sicurezza e quindi in primis la Capitaneria di Porto Guardia Agostiera. Ma un lavoro come quest'estate che sembra non voler finire, anche il lavoro della Capitaneria di Porto non finisce certo con la stagione estiva. E' molto più ampio e complesso il panorama di azione di questo Corpo dello Stato che tra l'altro vedremo serve anche più ministeri e quindi ha tante competenze. E ne vogliamo parlare con il comandante della Capitaneria di Porto d'Imperia, che è il comandante Giuseppe Semeraro, che ringrazio per essere con noi. Benvenuto comandante. Grazie per aver accettato il nostro invito perché va bene che la stagione è ancora bella e ci lascia pensare all'estate, però vogliamo anche sfatare un po' questo, chiamiamolo mito tra virgolette, che pensare alle divise dei marinai, della Capitaneria deve essere un discorso soltanto legato all'estate perché così non è. Chiaro che in estate vi si vede molto di più ma perché forse siamo noi a essere di più nel vostro territorio, però per il resto la presenza è costante. È stata un'estate lunga, credo che ancora adesso abbiamo avuto interventi, operazioni di soccorso perché comunque il tempo è ancora buono, la gente di spiaggia ci va, no? Beh, certamente è stata un'estate davvero intensa, un grande lavoro svolto dagli uomini e le donne in servizio nel compartimento marittimo di Imperia e quindi ricomprendo in questo le autorità marittime di Imperia e di Sanremo, quindi con uno sviluppo sul litorale di circa 36 miglia è un riflesso nell'ambito marittimo di circa 300 miglia quadrate di mare antistante, quindi insomma davvero un'ampia zona di mare, di litorale che è stata durante tutta l'intera stagione balneare oggetto di controlli quasi sempre e prevalentemente, per fortuna, di carattere preventivo. E davvero è stata una stagione, ahimè, anche ricca di tanti interventi di soccorso. Noi la richiudiamo sempre in quella definizione mare sicuro perché quella è l'operazione poi nazionale, no? Certo, quella sì è un'operazione nazionale però al di là poi degli obiettivi di mare sicuro poi andiamo ad operare sul campo sotto vari aspetti. Certamente quello più impattante è quello del soccorso, quest'estate abbiamo contato ben 34 interventi di soccorso con 42 persone soccorse e salvate. Davvero un numero importante. Da ultimo la cronaca ne ha fatta menzione il salvataggio di quella donna a 20 miglia con un probabile intento suicida che proprio grazie alla tempestività del nostro arrivo, devo dare atto, ne ho dato atto davvero ai miei collaboratori, all'equipaggio della motovedetta, davvero è stato un intervento che ha nobilitato il nostro servizio. Una motovedetta classe 800 che è quella dedicata ai salvataggi perché è la cosiddetta ogni tempo, cioè in grado di uscire in mare quando tutte le altre unità navali se ne guardano bene da lasciare il porto, voglio dire, perché è strutturata in un certo modo poi diciamo anche che comunque c'è pure gente che la sa pilotare come va pilotata perché non è che basta chiamarla tra virgolette inaffondabile. Beh, il mare ci vuole sempre tanta perizia, tanta professionalità, tanta cura ed è la stessa perizia ed è la stessa cura che noi cerchiamo di sensibilizzare in chi poi durante la stagione balneare vive il mare e lo vive anche per vacanza, per turismo. è sempre importante approcciarsi in maniera consapevole, cosciente, prudente perché alle volte gli incidenti hanno una ragione d'essere magari in atti anche talvolta inconsapevolmente imprudenti. Assolutamente. Ecco, la vostra attività non è, dicevo prima, non è soltanto quella estiva, durante tutto l'anno il Corpo del Nazionale Capitanere di Porto, la Guardia Costiera opera per la sicurezza in mare, sempre ci mancherebbe perché sono tanti anche gli utenti del mare in inverno, non sono soltanto coloro che godono di queste spiagge bellissime come ci mostrano le inquadrature e quindi dei prendisole, dei lettini negli stabilimenti panneare. Pensiamo soltanto ai nostri pescatori che escono anche in inverno, spesso magari con tempo anche piuttosto difficile per portare a casa il loro pane quotidiano, voglio dire, e quindi soccorso tutto l'anno e va bene. Ma poi lì c'è una delle immagini che lo mostravano un istante fa di bandelle bianche e rosse messe a sequestrare parti di ritorale, perché? Perché la vostra competenza è anche quella di controllare il rispetto delle leggi sul demagno e il rispetto delle leggi sulla pesca, intesa come filiera però della pesca, perché so che con qualche amico mi prendevano in giro perché dicevano che la nostra Capitaneria fa servizio anche a Cuneo, che ci va a fare a Cuneo? Mica c'è il mare a Cuneo, e non c'è il mare ma ci sono i ristoranti che vendono il pesce. Questo per far capire che cosa vuol dire, forse è meglio approfondirla un po' tutta questa attività, perché è molto vasta, io sicuramente ne ho dimenticato tanti pezzi. No, allora il corpo delle Capitanerie di Porto, e in questo anche ovviamente la Capitaneria di Porto di Imperia, ha una molteplicità di funzioni istituzionalmente riconosciute dalle leggi. E prima o fra tutte, lo abbiamo menzionato, il soccorso in mare, in quanto per legge autorità deputata a coordinare le operazioni di soccorso, ma vi sono tante altre competenze che derivano da dipendenze funzionali con altri ministeri, quindi non solo Ministero Infrastrutture e Trasporti, ma anche Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ma anche Ministero dell'Ambiente. Questi sono i tre principali ministeri su cui poi fondano e trovano significato le nostre principali competenze. Ne abbiamo fatto cenno poc'anzi. La tutela degli stocchittici che si esprime nelle nostre funzioni con i controlli dell'intera filiera ittica, quindi dal produttore, quindi dal pescatore, dal momento dell'atto di pesca, sino al consumatore finale. La garanzia che sulle tavole dei ristoratori o proprio del consumatore finale, di noi consumatori finali, possa arrivare un pesce tracciato e tracciabile. Si sa dove arriva, che sia anche rispettoso. Vediamo prima, in queste immagini si vedeva un marinaio che misurava con un metro un pesciolino. Certo, perché tra le varie norme a tutela degli stocchittici vi sono anche quelle legate alle taglie minime. Ogni pesce, ogni prodotto ittico ha la sua taglia minima, che deve essere rispettata in fase di attività di pesca. Quindi il nostro impegno è mirato, nella fase del prelievo, è mirato proprio a tutelare questi... Tutela dell'ambiente, tutela anche poi di quello che è il patrimonio dei pescatori. Certo, è un percorso implicito, perché tutelare gli stocchittici significa tutelare le risorse che nel mare e per il mare si sviluppano. Quindi per noi questo è tutela dell'ambiente. Quindi è un indiretto orientamento ad un altro compito fondamentale che abbiamo, che è proprio la tutela dell'ambiente marino e costiero. In questo vengono fatti tanti controlli, talvolta anche repressivi, laddove la legge lo presuppone. Però è certamente un filone di grande importanza per noi, perché tutelare l'ambiente significa tutelare un bene comune, un bene comune che dobbiamo preservare... Poi soprattutto da noi, mi permette, comandante, è particolare l'ambiente. Adesso non voglio fare il campanellista, ma diciamo una cosa come stanno. Abbiamo un santuario dei cetaci, abbiamo una zona che è un sito di interesse comunitario per le bellezze che ci sono sotto l'acqua. Anche per quello che non si vede, anche dal punto di vista non solo delle specie che vi abitano, ma anche della flora che vi si trova. Assolutamente. Quindi è comprensibile che un irresponsabile attività di pesca o un irresponsabile modo di vivere il bene mare costituisce certamente un rischio e un pericolo da prevenire e assolutamente da evitare. Vediamo per esempio una tartaruga che è stata liberata da una lenza... Sì, sì, assolutamente. Capita anche questo. Capita anche di poter liberare animali che magari sono rimasti impigliate in reti, ad esempio abbandonate. Noi abbiamo in atto, abbiamo una campagna nazionale, inerente alle reti fantasma. Queste reti sono pericolose, sono reti che risultano abbandonate o comunque alla deriva sul fondale marino. Cosa accade? Accade che costituiscono pericolo passivo per i pesci. Quindi, ancorché non più strumento di pesca attivo, in realtà lo divengono implicitamente perché continuano ad eseguire una cattura passiva e indiscriminata di pesce e di prodotti ittici. Quindi anche in questo abbiamo una campagna, come dicevo, in corso. Abbiamo, con la collaborazione, devo dare atto anche dei principali centri diving del territorio provinciale, abbiamo in corso una mappatura precisa e puntuale di tutte le reti da pesca a risultate abbandonate che con un piano di priorità basato su determinati criteri logici andremo ad attuare per andare a recuperare quelle che sono queste reti abbandonate dalle più pericolose alle meno pericolose. Questo significa appunto una tutela concreta da un punto di vista anche pratico. Poi ci sono naturalmente, c'è anche tanto spazio demaniale nel quale vi dovete muovere con tante regole che riguardano poi dalle nostre parti anche molte attività economiche perché spesso la gente non sa che uno stabilimento panneare insiste in un'area demaniale e quindi non è come un esercizio commerciale che può essere in un centro cittadino. Ci sono regole particolari, regole che dipendono ad esempio anche da concessioni, quindi insomma anche da questo punto di vista amministrativo credo che il lavoro sia abbastanza impegnativo. Certamente anche da quel punto di vista è un lavoro impegnativo che ci vede in prima linea soprattutto per far sì che il bene demaniale sia utilizzato e si usufruisca degli ambiti demaniali in maniera corretta secondo i vigenti strumenti concessori. Ma in realtà la nostra funzione si spinge per competenze legislative, si spinge anche a tutelare gli aspetti dominicali del bene demaniale, cioè quelli aspetti inerenti proprio alla proprietà statale del bene. Quindi sono profili inerenti processi di delimitazione piuttosto che di demanializzazione che cercano di mettere al centro dell'interesse statale il bene comune rappresentato in questo caso proprio dalle aree demaniali. Senta, abbiamo avuto anche eventi importanti sul mare, ci sono adesso poi in programma ancora regate perché qui da noi il mare è molto bello anche dal punto di vista sia del mare che del vento e quindi è campo di regata prediletto da tanti anche a livello internazionale, ci sarà un altro appuntamento internazionale se non erro a dicembre. Quindi c'è anche un aspetto come dire di garantire la sicurezza come dicevamo prima nell'arco di tutto l'anno con attenzione anche quando ci sono eventi che portano tanta gente sul mare insomma. Assolutamente, noi abbiamo avuto nella notoria edizione di Velle d'Epoca abbiamo avuto chiaramente uno sforzo operativo non indifferente che ci ha portato ad essere proiettati quotidianamente nelle zone di regata in maniera tale da permettere lo svolgimento in piena sicurezza di tutte le attività. Lo abbiamo fatto durante le regate, lo abbiamo fatto al di là della concreta esecuzione delle regate, quindi come attività preventiva di vigilanza in qualche modo a che tutte le attività che sono state poi previste durante questa importante manifestazione si svolgessero in piena sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le norme della sicurezza della navigazione. Certo, questo è l'esempio ultimo del nostro impegno in mare e nei porti, ce ne saranno certamente altri, ce ne sono quotidianamente altri, quindi è davvero un impegno quotidiano a servizio del cittadino, a servizio dell'amministrazione marittima che si propone di tutelare quel bene comune di cui tutti noi vogliamo fruire quotidianamente. Tra l'altro a proposito di spending review, io dicevo prima che lavorate per tanti ministeri, voi ce l'avete proprio nel DNA già prima che se ne parlasse, cos'è il ministero della difesa? Trasporti? Abbiamo una dipendenza funzionale dal ministro della difesa, dal ministro dell'infrastruttura e trasporti per gli aspetti demaniali ma anche per gli aspetti giuridico-amministrativi della tenuta per esempio dei registri delle unità da diporto piuttosto che delle unità mercantili come le patenti nautiche oppure ancora dei registri delle matricole della gente di mare quindi un'importante fette rappresentata da questa dipendenza funzionale dal ministero delle infrastrutture e trasporti. Abbiamo citato l'ulteriore dipendenza dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli aspetti legati alla pesca, la dipendenza dal ministero dell'ambiente per tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente marino e costiero ma potrei continuare a citare e menzionare altri ministeri da cui più o meno indirettamente abbiamo dipendenze, il ministero per lo sviluppo economico per attività legate a collaudi, ispezioni di stabilimenti costieri in questa porzione di territorio non ne abbiamo però certamente in altri contesti ce ne sono davvero di importanti. È un'attività istituzionale a tutto tondo che ha come centro focale il mare, tutti gli interessi pubblici ed economici che intorno al mare, per il mare, si sviluppano. Comandante Semerario, io la ringrazio per la sua disponibilità, il nostro naturalmente è un arrivederci speriamo anche a presto nel senso che appunto, come ribadisco, non vorremmo essere banali a parlare di capitaneria soltanto d'estate sulla spiaggia ma cercare proprio di capire il lavoro costante che c'è tutto l'anno da parte delle nostre istituzioni, dei nostri corpi dello Stato e fra questi c'è sicuramente la capitaneria di Porto Guardia Costiera. Quindi la ringrazio, un arrivederci a lei e naturalmente un arrivederci al pubblico. Buonasera. 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 Grazie a tutti.